Quando riapre un grande museo è sempre un giorno di festa, quando poi un grande museo come il Museo Nazionale d'Abruzzo riapre all'Aquila è doppiamento un giorno di festa perché è una restituzione alla città, è una restituzione al paese, è una battaglia vinta, con un museo che riapre, con opere straordinarie, con una bellissima collezione in un allestimento nuovo che consente anche di esporre opere che non erano mai state esposte nella precedente sede, davvero è un pezzo importantissimo della ricostruzione dell'Aquila e della restituzione dell'Aquila e del patrimonio. I lavori stanno andando avanti, le risorse oggi ci sono, i cantieri sono aperti solo per quello per quanto riguarda il mio settore, il settore del patrimonio culturale, ci sono più di 150 cantieri privati aperti, ci sono più di 50 lavori già conclusi, ci sono cantieri su un punto come questo, circa 15 già conclusi e altri decini ancora, quindi il lavoro sta andando avanti, naturalmente è un lavoro che sopra il patrimonio culturale, chiede più interi scientifici, attenzione e i tempi non sono brevi ma questa parte è una parte che sta andando avanti. Grazie. 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 Grazie.